Quest'anno scolastico, il 2014-2015, è stato intitolato l'anno del libro. Partiamo proprio con stamani mattina qui nella sede di Meleto, nella primaria di Meleto, regalando, e così faremo anche domani a Cavriglia e domani l'altro a Castelnuovo, regalando dei libri, dei libri presate pubblicazioni della nostra amministrazione relative alla storia del territorio e alla bellezza anche del nostro territorio, anche in lingua inglese. In particolare, questo a tutte le classi, in particolare a tutti gli alunni, regaleremo un segnalibro dal motto Abbi cura di me, proprio come se fossero i libri a chiedere questo ai loro piccoli padroncini, ai piccoli alunni, perché il libro, anche nella generazione 2.0, è un patrimonio e deve essere tenuto come fonte, deve essere appunto custodito come fonte di cultura, di conoscenza e soprattutto di libertà.